ciao oggi per colazione mi sono rifatta i pancake alla banana con marmellata di arance e qualche chicco di melograno per pranzo un hamburger e mezzo pomodorini e broccoletti e una fetta di pane fatto in casa da me molto integrale e a dopo ciao per questa sera mangio orata e insalata e oggi l'ho sofferto questa dieta non so neanche il motivo speriamo domani sia un giorno migliore ciao